Musica Siamo all'appuntamento con la pagina sportiva, ben trovati. Apriamo subito con l'Arezzo, ufficiale l'accordo con Niccolò Gucci. Il giocatore ha prolungato il suo rapporto fino al 3 giugno del 2025, soddisfatto il presidente Manzo. Stretta di mano tra l'Arezzo e Niccolò Gucci, l'attaccante che domenica salterà la partita con il Pescara per squalifica, si è legato all'Arezzo fino al 30 giugno del prossimo anno. La stretta di mano in sede questa mattina, soddisfazione espressa da entrambe le parti. Il rinnovo di Niccolò era nell'ordine del giorno da diverso tempo, ha detto il presidente Manzo. Oggi abbiamo avuto modo di sottoscriverlo perché, come detto con Pattarello, il nostro obiettivo è quello di fare la scalata di tutti quanti assieme e si parte dai giocatori come lui per questo. Gucci, proclamato giocatore dell'anno nel 2023, si candida a diventarlo anche nel 2024. Il giocatore non ha nascosto la sua soddisfazione per la fiducia che la società Amaranto gli ha dimostrato. Con le 15 reti segnate nel corso di poco più di un anno con l'Arezzo, Gucci si è imposto soprattutto per la sua combattività e l'apporto che dà alla squadra. E' tutto pronto per l'arrivo del Pescara contro la squadra di Zeman. Pattarello rileverà proprio Gucci. Prove tecniche di falso 9 contro il Pescara. La forzata assenza di Gucci, squalificato, costringe Paolo Indiani a ridisegnare l'attacco. Non cambierà modulo perché è quello che meglio si sposa con le idee tattiche dell'allenatore di Certaldo che ha sposato la linea offensiva raggiungendo quegli equilibri che prima forse mancavano. Dietro la presenza di Chiosa offre garanzie evidenti risaliti e riaquisito le giuste coordinate. Lo stesso Polvani sta bruciando le tappe nel recupero che è in atto dopo lo stop dicembrino. Il Pescara, squadra che gioca in maniera aggressiva secondo i dettati del calcio zemaniano, forse è la formazione migliore per gestire questa situazione. L'assenza di Gucci obbliga Indiani a spostare Pattarello in posizione più avanzata mentre la presenza di Guccione diventa come sottopunta un fatto dirimente di questo nuovo 4-2-3-1. La scelta degli esterni cadrà probabilmente su Iori e Gaddini mentre nelle linee arretrate non sta benissimo Renzi e lo si è visto anche nel corso della partita di Carrara. Curiosità per i nuovi, donati in teoria è quello che potrebbe conquistare già uno spazio immediato mentre Catenese è un giocatore duttile che può avere diverse collocazioni. Problemi di scelta per Indiani, problemi che tutti gli allenatori vorrebbero sempre avere. Cambiamo categoria, parliamo di Serie D, il Baby Rosso Blu quando gioca trova sempre l'occasione per lasciare il segno. Vediamo chi è. Per Boncompagni il ritorno a Montevarchi è stato quasi una manna. Il giovane, originario di Olmo, ma cresciuto nel vivaio Aquilotto, aveva iniziato la stagione a figline, poi è tornato a casa nella sessione invernale del mercato di lettanti. E mai scelta fu tanto azzeccata, visto che Boncompagni è un giocatore capace di lasciare il segno. Sono contento di poter dare una mano a una squadra, ma in primis è la squadra che sta dando una mano a me, che comunque venivo da un periodo un po' difficile e con l'aiuto dei compagni del mister ne sono riuscito fuori con una bella prestazione domenica. La squadra nelle ultime partite, inclusa quella dove ha perso a Serravezza, ha dimostrato di avere gambe e testa. Sì, penso di sì, perché questa vittoria ci darà tanto morale, ci ha dato tanto morale e penso che siamo sulla strada giusta come lo siamo da settimane. La partita con il Cenaia diventa fondamentale contro la squadra allenata da Jacobelli, che ha problemi maggiori del Montevarchi, serve fare risultato. Quello, decidere al campo quali problemi ha il Cenaia, però noi puntiamo a fare tre punti domenica e a dare una scossa alla classifica, che è quello che abbiamo bisogno adesso. In casa San Giovannese si aspetta l'arrivo della Pianese, con la capolista sarà necessario dare il meglio, intanto Bartolozzi non nasconde il suo entusiasmo. Edoardo Bartolozzi, il primo gol in una gara che valeva parecchio. Sì, sono contentissimo perché il primo gol arriva sicuramente in una partita che era fondamentale, era fondamentale i tre punti e l'abbiamo approcciata molto bene, siamo andati fortissimo tutti i 90 minuti e il risultato infatti si è visto. Arriva la capolista, è una squadra che se non altro non ha bisogno di stimoli, anche se devo dire che in queste ultime settimane, anche con questa rivoluzione, stimoli dentro voi stessi ve li siete trovati. Sì, arriva una squadra fortissima, ma noi la prepariamo come abbiamo sempre fatto con tutte le altre squadre. Ovvio, gli stimoli arrivano da soli, ma la prepariamo bene, andiamo forte e poi si vedrà domenica, dai. È una situazione di classifica un po' particolare, sono meno i punti rispetto a quelli che sembravano servire per la salvezza, però probabilmente anche la quota rischia di essere un pochino più bassa. Ti sei fissato un obiettivo per cui la San Giovanese può arrivare per evitare i propri play-out? L'obiettivo è ovviamente vincere tutte le partite, però noi facciamo il nostro percorso, poi si vedrà il 7 maggio. Noi il 7 maggio vogliamo salvarci direttamente senza fare i play-out e questo è il nostro obiettivo fisso in testa tutta la settimana, tutte le settimane, fino a maggio. Avevi parlato quando sei arrivato delle due caratteristiche tecniche, ti stai trovando a tuo agio con questo modulo. Sì, devo dire che mi sto trovando a mio agio, anche se non ho sempre fatto la punta, non è proprio il mio ruolo, però col mister stiamo lavorando ogni settimana bene per poter affrontare sempre meglio il ruolo e vedremo, dai. E adesso parliamo di Gioele Meoni, 13 tappe fino al traguardo, si è conclusa l'avventura alla 46esima edizione della Dakar per Gioele Meoni. Il centauro castiglionese, figlio del grande Fabrizio, ha vinto la scommessa con se stesso. Tutto era iniziato così lo scorso 5 gennaio. A distanza di due settimane, Gioele Meoni quel traguardo tanto atteso lo ha tagliato, potendo dire di aver vinto la sua scommessa personale. È terminata infatti l'avventura in Arabia Saudita per Meoni Junior, che ha completato la 46esima edizione della corsa, che da sempre rappresenta una sfida leggendaria per uomini e motori. 13 tappe che il centauro castiglionese ha completato correndo sulle orme dell'indimenticato padre Fabrizio per sostenere il progetto Dakar for Dakar. Il pilota metterà all'asta la moto con cui ha partecipato alla competizione per portare avanti i progetti scolastici in Senegal. Epilogo diverso per Paolo Luci, il leone castiglionese, che ha dovuto dire addio alla Dakar nel corso della settima tappa a causa di un incidente. Fortunatamente nessuna grave conseguenza e adesso la voglia di rimettersi in sella per la prossima edizione è ancora più grande. Cambiamo sport, un'altra vittoria della Herm Group che piega il Modica e si consolida al secondo posto della classifica di A3. Vittoria al Cardiopalma per la Herm Group San Giustino sulla AVMEC Modica al tie-break. Tre match ball annullati ai siciliani e due punti che fanno in classifica immorale per i biancazzurri sangiustinesi. I parziali 19-25, 25-20, 25-17, 20-25-17-15. Come vincere una partita che oramai sembrava persa? In pochissimi, forse nessuno, sul 14-11 al tie-break per la AVMEC Modica avrebbe scommesso su un esito diverso e invece la Herm Group San Giustino Maidoma è riuscita a fare il miracolo agguantando parità e vantaggio sul turno in battuta per poi chiudere sul 17-15 e conquistare due punti che moralmente valgono il doppio e che nella classifica del girone blu della serie A3 Credem Banca consentono di mantenere la piazza d'onore insieme alla Smart System Fano entrambe, Herm Group San Giustino e Smart System Fano hanno 29 punti in classifica ma Fano rimane seconda per il maggior numero di vittorie ed ora domenica trasferta impegnativa ancora nelle marche contro la forza numero uno del campionato ovvero Banca Macerata che guida la classifica dall'alto dei suoi 36 punti appuntamento a Macerata domenica 21 gennaio alle 16 e torna il campionato di serie C di pallavolo trasferta a Firenze con la Sales per il club Arezzo che punta deciso ad incrementare la sua già eccellente classifica che la vede al secondo posto dietro la capolista Firenze Volley in casa sia la tesi Volley Arezzo che il Cortona il sestetto di Peruzio ospita la Remo Masi della Rufina mentre il Cortona riceve la visita a Terontola del Colle entrambe le avversarie delle aretine sono nelle posizioni di rincalzo in classifica ed è morto Luigi Falasconi ex calciatore, dirigente calcistico nonché apprezzato pittore e fotografo aveva 75 anni funerali domani in Duomo a Sansepolcro tre giorni fa si era sparsa la voce del suo decesso con inevitabili ripercussioni purtroppo la morte è sopraggiunta questa notte Luigi Falasconi il professore, un artista della fotografia e amante dei pennarelli ex calciatore e dirigente sportivo ci ha lasciato all'età di 76 anni lottava da tempo contro un terribile male tre anni fa rimase vedovo padre di due figli entrambi nei carabinieri forestali è stato un personaggio che ha lasciato il segno non solo in Valtiberina bastava un suo sguardo per capire se la cosa che gli dicevi lo interessava con la sua macchina fotografica ha effettuato straordinari reportage oggetti di mostre che hanno riscosso un grande successo in questi giorni proprio a Citerna è ancora aperta una sua mostra di pittura di acquarelli nel calcio ha lasciato il segno giocando ad Arezzo in Serie B Gubbio, Sansepolcro e Lama con la maglia degli Umbri segnò anche una rete storica nel 1970 all'Italia di Vanchareggi in una amichevole giocata a Comerciano prima della partenza e per i mondiali del Messico ma in meglio lo ha dato come dirigente visto che costruì le basi della rinascita dell'Arezzo dopo la radiazione del 93 fu lui a consigliare Ciccio Graziani segnalando Cerze Cosbi l'allenatore sconosciuto di Ponte San Giovanni nella sua agendina c'erano scritti i nomi di giocatori visionati nei vari campionati minori poi gradualmente abbracciò altri mondi e nuove culture Arezzo gli deve molto e nessuno se lo potrà dimenticare Condoglianze ai figli si chiude qui la nostra pagina sportiva io vi ringrazio per essere stati con noi e arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti